Musica Deteneva cocaina e crack. È stato arrestato dalla polizia di Stato un marsalese di 30 anni. Ospedale a Belaiello di Mazzara del Vallo. Incontro a Trapani tra il commissario Spera ed il sindaco Salvatore Quinci. Inaugurato sempre a Mazzara il nuovo parcheggio di via Impastato. Varato il programma dell'estate mazzarese 2023. Il 24 agosto il megaconcerto di Elettra Lamborghini. Buongiorno a tutti cari telespettatori a questa nuova edizione del Tg8. Informazione al solito sul canale 117 in streaming e sulle nostre pagine social. Apriamo con la cronaca. Rapina un porta valori ieri a Palermo. L'assalto è avvenuto nella zona d'accesso all'autostrada nei pressi di via Rosario Nicoletti. Cinque uomini hanno affiancato il mezzo a bordo di due auto. Dopo aver bloccato il furgone hanno disarmato e portato via la pistola al vigilante e poi si sono dati alla fuga con il bottino. Il bottino è di oltre 100.000 euro. I cinque uomini erano incappucciati e hanno bloccato il furgone quando stava per raggiungere l'autostrada Palermo a Mazzara del Vallo. La guardia giurata è scesa e i rapinatori gli hanno portato via la pistola e il giubbotto antiproiettili. Dopo aver preso i soldi i cinque sono fuggiti a bordo di una lancia Y rubata e sul luogo della rapina sono ovviamente intervenuti gli agenti della scientifica che hanno eseguito i rilievi per cercare tracce utili per risalire agli autori. Deteneva cocaina e crack. È stato arrestato dalla polizia di Stato un marsalese di 30 anni il servizio. Deteneva cocaina e crack occultati nella parte esterna della sua abitazione in zone ad essa a Tigua. Il giovane è arrestato nei giorni scorsi a Marsala dagli agenti della squadra mobile della questura di Trapani e del locale commissariato di pubblica sicurezza. Il soggetto trentenne con precedenti di polizia è stato notato dai poliziotti i quali da alcuni giorni sorvegliavano lo stabile e le zone a Tigua mentre nascondeva sotto una soglia marmorea un voluminoso pacco rettangolare inserito all'interno di una busta. Scattata così la perquisizione gli agenti hanno subito rinvenuto l'involucro sospetto al cui interno era contenuto oltre un chilo di cocaina e successivamente estendendo le ricerche all'abitazione in altri punti del giardino e ad alcuni siti in cui il giovane era stato visto accedere hanno poi trovato anche ulteriori 200 grammi di cocaina e 30 di crack. Nel corso dell'attività sono stati sequestrati 7.600 euro in contanti oltre ad oggetti destinati al frazionamento e al confezionamento della sostanza. Nota singolare è che ben 6.000 euro erano occultati in una cassaforte ingegnosamente nascosta da una finta presa elettrica. L'indagato è così finito in carcere con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento su richiesta della procura della Repubblica di Marsala è stato poi convalidato dal GIP che ha confermato per il presunto pusher la misura cautelare della custodia in carcere. I carabinieri della stazione di Trapani hanno eseguito un'ordinanza ai domiciliari con braccialetto elettronico del GIP nei confronti di un commerciante di 81 anni accusato di violenza sessuale su una minore. L'indagine coordinata dalla procura è nata dalla denuncia dei genitori della vittima. L'anziano, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe avvicinato la minorenne che era andata al supermercato da sola e approfittando dei pochi clienti presenti l'avebbe costretta a subire atti sessuali. Ma continuiamo a scaricare i rifiuti per strada a Marsala. Il Comune pubblica il video ed eleva una multa da 400 euro oltre a fermo cautelativo del mezzo ed il rischio di risvolti penali nei confronti dell'autore. Ascoltiamo. Multa da 400 euro è il sequestro del mezzo. Il responsabile dell'abbandono di cumuli di rifiuti per strada a Marsala paga care le conseguenze del suo gesto. E alla sanzione si aggiunge anche la condanna degli utenti Facebook che hanno commentato il video pubblicato sulla pagina del Comune. Proprio grazie a quelle immagini è stato possibile risalire al conducente del furgone che dopo aver percorso via Favara si è immesso sulla deviazione sottostante al ponte sul Sossio e poi a metà strada con l'aiuto di un altro uomo ha abbandonato una grande quantità di rifiuti. Le immagini parlano chiaro, i due scendono dal mezzo, aprono le porte posteriori e nel giro di tre minuti tirano fuori i sacchi di immondizia abbandonandoli ai lati della strada. Le telecamere della videosorveglianza ambientale hanno registrato tutto consentendo alla Polizia Municipale di risalire al proprietario del furgone e ridigere il verbale. Ma non è tutto, gli atti sono stati trasmessi alla Procura perché oltre alla sanzione al fermo cautelativo del mezzo, spiegano dal Comune, potrebbero rilevarsi anche aspetti penali e pertanto le immagini saranno sottoposte al vaglio dell'autorità giudiziaria. Un intero nucleo familiare, marito, moglie e due figli, si trova attualmente ricoverato all'ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano per un'intossicazione dopo aver mangiato del tonno rosso fresco. Tre di loro sono in terapia intensiva ma per fortuna non sono in pericolo di vita. I quattro hanno accusato i sintomi di un'intossicazione alimentare che si genera per la presenza di abbondanti quantità di istamina nella carne del tonno. L'istamina non è presente nel pesce al momento della pesca ma si forma subito dopo la sua morte. La sua produzione può avvenire in ogni fase della filiera alimentare e si può prevenire mediante delle tecniche di abbattimento. Ma cambiamo argomento, andiamo alle news dal territorio. Questa mattina vi è stato un incontro a Trapani tra il sindaco della città di Mazzara del Vallo e il commissario dell'Aspil, il dottor Vincenzo Spera. Il sindaco era anche accompagnato dal suo esperto esterno, il dottor Antonino Arena. Tema dell'incontro, l'ospedale a Belaiello della città. Ascoltiamo. Incontro a Trapani ieri tra il sindaco di Mazzara del Vallo, Salvatore Quinci, accompagnato dall'esperto Antonino Arena e il commissario straordinario dell'azienda sanitaria provinciale di Trapani, Vincenzo Spera. Diversi temi affrontati con il commissario, dai disagi causati nel reparto pediatria dell'ospedale a Belaiello a seguito della turnazione richiesta nell'omologo reparto dell'ospedale di Trapani alla carenza di medici nel reparto di medicina interna. Durante l'incontro sono inoltre stati manifestati disagi registrati presso l'ospedale di Mazzara del Vallo a causa della estenuante condizione dei cardiologi costretti a coprire turni anche presso il pronto soccorso. La prevista assunzione da parte dell'Asp di Trapani di una squadra di nuovi medici a Rassicurato Spera consentirà di destinare alla Belaiello le giuste figure professionali per fare fronte alla carenza di organico. Spera si è poi impegnato a far sì che almeno un giorno a settimana personale del reparto oculistico del nosocomio di Castelvetrano sarà a Mazzara per interventi di catarratta e all'assunzione di nuovi ortopedici previsti per la fine del mese di agosto per la riapertura del reparto di ortopedia con la disponibilità di quattro posti letto. Buone notizie da parte del Commissario anche per il laboratorio di analisi che raddoppierà i prelievi giornalieri per esterni e per gli esami di radiologia, TAC e radiografia per esterni che saranno garantiti ogni pomeriggio in entrambi i casi senza necessità di prenotazione al CUP e con pagamento direttamente in sede. Confermata poi la pubblicazione del bando per l'acquisto dell'apparecchiatura per la risonanza magnetica che entrerà in funzione prima di fine anno. Nella nottata un vasto incendio si è verificato a Castelvetrano all'interno dell'ex cementificio. Dalle immagini si nota che sono state date alle fiamme delle autovetture che si trovavano al suo interno. È stato ovviamente necessario l'intervento da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri e secondo le prime indescrizioni si tratta di autovetture non utilizzabili ed è probabile che l'azione possa essere collegata all'arrabbia per lo sgombero dell'aria avvenuto, come ricordate, qualche settimana fa. È stata approvata invece all'Ars la riforma dei consorsi di bonifica. Il plauso arriva da parte di UGL Sicilia. Esprimiamo apprezzamento per il varo ingiunta regionale del disegno di legge di riforma dei consorsi di bonifica in Sicilia. Ad affermarlo Giuseppe Messina, segretario UGL Sicilia e Franco Arena, segretario regionale UGL Agricoli e Forestali commentando l'approvazione del disegno di legge di riforma dei consorsi di bonifica e dell'intero sistema dell'irrigazione in Sicilia. Il testo contiene molti aspetti qualificanti e alcuni passaggi di portata storica. Proposte che avevamo presentato e discusso durante la fase di confronto durata diversi mesi con l'assessore regionale Luca Sanmartino e con il dirigente generale Dario Cartabellotta e che oggi valutiamo come qualificanti e innovativi al passo con i tempi e rispondenti agli effetti dei cambiamenti climatici sul territorio siciliano. Serviva un segnale forte per gli agricoltori e per la generale necessità di sicurezza e tutela del fragile territorio siciliano segnale che è prontamente arrivato. Il governo del presidente Renato Schifani ha accelerato il varo del testo dopo aver chiuso il confronto con tutti gli attori del sistema agroindustriale regionale. Così come l'impegno dell'assessore Sanmartino non è mai mancato e i tempi sono stati rispettati precisano Messina e Arena così come l'impegno di consegnare alla Sicilia una riforma in grado di dare risposta al cambiamento climatico che ha modificato completamente l'approccio sistemico. Adesso la riforma dei forestali altro tassello del programma di governo che siamo certi per la serietà dimostrata finora l'assessore all'agricoltura porterà in giunta per l'approvazione prima della fine dell'anno. L'impianto normativo spiegano i sindacalisti dell'UGL si fonda sul principio della integrazione degli obiettivi della tutela dell'equilibrio idrogeologico del territorio dell'uso integrale e razionale della risorsa idrica e della garanzia di un servizio essenziale per l'agricoltura. Altro tassello importante della riforma è la previsione che il personale sia stagionale che a tempo indeterminato transiterà alle dipendenze dei quattro consorsi di bonifica con l'applicazione del contratto collettivo di categoria. Riforma, concludono Messina e Arena, che prevede anche, come dall'UGL ha auspicato, la riduzione degli enti da 13 a 4 e il coinvolgimento dei produttori oltre alla revisione del sistema tariffario e di finanziamento e l'intervento nelle competenze di tutti gli attori, definendole con chiarezza e allineando la Sicilia al quadro normativo europeo e nazionale in materia, superando le criticità che avevano ingessato il sistema negli ultimi decenni, restituendo certezze al comparto. Adesso la parola a Lars per un rapido iter parlamentare di approvazione della riforma. E' stato inaugurato questa mattina a Mazzara del Vallo il nuovo parcheggio di Interscambio nella via Peppino Impastato. E' dotato di 100 posti auto, l'area di parcheggio dovrà essere fermata di mezzi di trasporto pubblico che poi proseguiranno fino a tutte le località balneari di Tonnarella. L'amministrazione ha ordinato tre pulmini elettrici, il cui arrivo è previsto per fine luglio. Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti il sindaco della città il dottor Salvatore Quinci, l'assessore comunale Matteo Bomarito insieme a Don Pino Alcamo. Ascoltiamo le interviste all'assessore Matteo Bomarito e al sindaco Salvatore Quinci. Siamo a due parcheggi pubblici che sono alla disposizione di tutti quanti i cittadini. Presto arriveranno le navette turistiche da 14 posti per tutti coloro che posteggeranno qui e vorranno raggiungere i lidi sulla spiaggia di Tonnarella. Così come ci saranno altre navette sempre elettriche dalla seconda decade di luglio per il lungomare San Vito e la spiaggia di San Vito. Pian piano, lentamente, con grande fatica, tutto con risorse di terzi, perché il Comune sapete bene che ha gravi difficoltà finanziarie, realizzeremo quello che avevamo messo nel nostro programma, cioè nuovi parcheggi, mobilità sostenibile, è arrivato un minibus elettrico per i disabili, per un servizio innovativo che sarà un servizio a chiamata per tutti coloro che hanno difficoltà a muoversi e che non sanno come fare. Il Comune si mette al servizio dei più bisognosi. Ecco che pian piano realizziamo quelli che erano i nostri ideali, i nostri progetti di una Mazzara Green. C'era chi aveva proposto che il trenino allungasse il suo percorso, dal punto di vista della viabilità non è possibile, perché un trenino sulla provinciale costituisce un grave elemento di rischio per la viabilità. Vedremo se è possibile trovare le risorse per poter allungare i percorsi dei nostri bus elettrici. Ma non c'è solo la zona di Quarara, ci sono gli altri quartieri periferici, il Trasmazzaro, la zona Macara, la zona di Santa Rosalia che hanno bisogno di mobilità. Pian piano arriveremo a tutti quanti. Non è certo una mancanza di attenzione, non è certo una mancanza di progettualità e un tema di risorse. Questa amministrazione ha dato dimostrazione come con il tempo le risorse arrivano, realizziamo i parchi, realizziamo i parchi urbani, realizziamo i parcheggi e attiviamo la mobilità sostenibile. La prossima sfida la grande pista ciclabile su tutto il lungomare. Mazzara è stato un gran cantiere e nei prossimi anni lo sarà. Però è un sacrificio che abbiamo dovuto accogliere. Saremo una città civile con un impianto fognario in un grande quartiere che è quello del Trasmazzaro. Era insostenibile non avere le fognature. Questo ci consentirà per esempio di avere poi nella spiaggia libera a partire dall'anno prossimo anche lì i bagni pubblici così come nella spiaggia di San Vito e nella zona dove c'è lo skate park. Insomma è stato un sacrificio che io ho dovuto chiedere ai nostri concittadini ma che ci consentirà di avere una città più moderna. Tant'è che la domanda che io lascio ai miei concittadini e chiedo loro di darmi suggerimenti di rispondere di farci arrivare degli input cos'è per voi una città moderna? Cosa dobbiamo mettere in campo per far sì che Mazzara cominci a diventare finalmente una città moderna? Noi abbiamo dato un inizio di questo lungo percorso fateci sapere siamo qui. Finalmente un altro tassello è stato messo da parte di questa amministrazione un tassello importante un parcheggio io lo voglio definire un parcheggio di interscambio perché è un parcheggio che diciamo che da questo parcheggio partirà il collegamento per tutta Tonnarelle significa che tu lascerai la macchina in questo parcheggio e da questo parcheggio poi a breve che arriveranno i tre pulmini elettrici di cui uno sarà messo a disposizione solo ed esclusivamente per questo tratto quindi questo pulmino elettrico partirà da questo parcheggio e arriverà sin a tutto il litorale di Tonnarella e farà solo cinque fermate avanti e indietro lasciando sia con cittadini che turisti quindi è un parcheggio di fondamentale importanza per la città ricordo a tutti che il finanziamento il progetto è stato presentato nel 2018 poi riammesso a finanziamento con la giunta Quinci e oggi siamo qui per inaugurare dopo tanta fatica questo benedetto parcheggio devo dire che il direttore dei lavori che è stato Salvatore Ferrara che ha fatto un ottimo lavoro il RUP Giacalone e Aurelio che si sono impegnate anche per la realizzazione di questo parcheggio sono cento posti auto di cui quattro sono quota rosa e quattro sono per disabili comunichiamo sempre alla città e a tutti i cittadini che questo parcheggio il costo del parcheggio è la tariffa di 10 centesimi nel periodo invernale nella stagione estiva quindi a partire dal 1 giugno al 30 settembre sarà di 20 centesimi diciamo che sono cifre irrisorie però era giusto dare un servizio anche a questa zona zona Trasmazzaro i pulmini elettrici sono 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 di nostra proprietà quindi sono dell'ente comune il costo sarà gratuito non si pagherà niente e quindi metteremo a disposizione diciamo questo collocamento per cercare di dare un servizio in più alla città ricordo a tutti pure che questo parcheggio è ultra sicuro perché è dotato di video sorveglianza quindi che registrerà 24 ore su 24 attraverso il nostro comando di polizia municipale quindi chi lascerà la macchina all'interno di questo parcheggio può stare in maniera tranquilla e serena che se dovesse succedere qualche cosa in automatico noi attraverso le registrazioni andremo a vedere qual è stata la causa ma a proposito della città di Mazzara del Vallo la giunta municipale guidata appunto dallo stesso sindaco Salvatore Quinci ha barato il programma di eventi e manifestazioni che andranno a comporre il cartellone della stagione dell'estate mazzarese 2023 che prenderà il via il prossimo 7 luglio per concludersi poi il 10 di settembre l'investimento complessivo previsto è di circa 200 mila euro l'amministrazione comunale ha inoltre pubblicato un avviso di ricerca sponsor per la copertura di parte dei costi degli eventi inseriti nel programma e anche per il finanziamento di ulteriori eventi che non sono ancora inseriti questa mattina a tal proposito abbiamo ascoltato il sindaco Salvatore Quinci ascoltiamo sì è un programma quest'anno che è corposo io ricordo tra i tanti eventi quelli popolari abbiamo puntato molto su un'estate pop abbiamo bisogno tutti di rilassarci di qualche risata in più di divertirci e insieme a questo proviamo a ripristinare le antiche tradizioni della Mazzara e una visione della Mazzara che verrà tra gli eventi io ricordo il concertone di Elettra Lamborghini il 24 agosto in Piazza Repubblica ed è un concerto totalmente gratuito ricordo l'evento Stelle sul Mazzaro una tre giorni che ci farà immaginare come sarà il cuore di Mazzara il portocanale appena finiti i lavori di dragaggio prima dell'inverno ricordo di nuovo il festino di San Vito che proviamo a riportare all'antico splendore e soprattutto il ritorno della padellata chi di noi ricorda da piccolini questa grande padellata di frittura del nostro pesce locale che faremo a lungomare poi un gran concerto i 40 che ballano i 90 un po' per la gente della mia età per ballare nel lungomare Mazzini chiuso al traffico e infine il carnevale a Giabanna di Luponte il carnevale di Tonnarella che sarà un evento spettacolare come quello dell'anno scorso ricordo ancora migliaia di persone a divertirsi in quelle calde serate estive e poi presentazioni di libri spettacoli teatrali tanta musica con Art Pack il cuore dell'estate sarà quindi non solo Piazza della Repubblica il Collegio dei Gesuiti ma anche Tonnarella ma anche il nostro lungomare e quindi insomma un'estate pop un'estate che chiama alla spienzieratezza e che spero possa aglietare le serate dei tanti mazzaresi che vivono un momento di difficoltà come già comunicatovi nelle scorse settimane negli scorsi giorni Don Giuseppe Maria Alcamo è stato nominato dal Vescovo Monsignor Angelo Giordanella nuovo parroco della parrocchia di San Lorenzo e Santa Chiara di Mazzara del Vallo Don Alcamo prende il posto di Don Giacinto Leone questa mattina lo abbiamo ascoltato e vediamo cosa da dirci a partire dal mese di luglio inizia una nuova dimensione in verità nuova per modo di dire perché la riprendiamo dopo tanti anni inizio a ritorno a fare il parroco pur mantenendo l'impegno di docente quindi continuerò a fare il docente alla facoltà teologica e alla LUMES e poi farò il parroco insieme a Don Tiziano Repetto come vice parroco è l'esperienza più gratificante che un prete possa fare servire il popolo di Dio nella vita quotidiana nelle varie dimensioni per cui è quella più ordinaria e quella più comune e quella più bella l'insegnamento è affascinante stimola molto e mi piace anche ma l'essere parroco è quello più completo grazie a voi dopo lega di anche San Vitolo Capo dice stop alle passeggiate a torso nudo e ai costumi a stabilirlo è un'ordinanza del neosindaco Francesco Lasala con l'obiettivo di garantire il pubblico decoro nella cittadina riveresca trapanese già affollata da moltissimi turisti e bagnanti con l'ordinanza quindi non si potrà più girare per strada intenuta da mare ad eccezione ovviamente delle aree strettamente balneabili il divieto riguarderà anche i locali pubblici del centro storico i musei le chiese il cimitero gli esercizi commerciali di somministrazione alimenti e bevande i trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa che va da un minimo di 25 a un massimo di 150 euro come si legge nell'ordinanza che sarà in vigore dal prossimo 2 luglio e fino al 2 novembre è iniziato e proseguirà per l'intera stagione estiva il servizio di pulizia e manutenzione della spiaggia di Tre Fontane e torretta di Campobello di Mazzara ascoltiamo è iniziato martedì il primo intervento di pulizia straordinaria e di bonifica dell'arenile di Tre Fontane disposto come ogni anno dall'amministrazione comunale del sindaco Castiglione al fine di consentire la piena fruibilità della frazione a cittadini e turisti per l'intera durata della stagione estiva l'intervento che interesserà con continuità la frazione balneare per l'intera stagione sarà eseguito dalla ditta Pulitalia Soce Copp a giudicataria della gara appaltata dal comune tramite MEPA per l'importo complessivo di 38 mila euro le opere che si alterneranno giornalmente tra il lato est e quello ovest saranno eseguite con l'impiego di personale di mezzi meccanici e consisteranno nella rimozione di tutto il materiale dei rifiuti depositati sull'arenile e nella collocazione lungo tutta la spiaggia di Tre Fontane Torretta Granitola di nuovi cestini portasacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti nel frattempo sono iniziati ieri e saranno completati a breve anche i lavori di posizionamento degli scivoli per l'accesso delle persone diversamente abili alla spiaggia di Tre Fontane gli interventi sono coordinati dall'assessore comunale all'ambiente Giovanni Palermo a partire da sabato primo luglio inoltre anche nelle frazioni balneari prenderà il via il servizio di pulizia stradale con spazzatrice meccanica il servizio è segnalato da apposita cartellonistica in cui sono indicati i tratti di strada in cui sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 4 alle ore 7 del mattino il sindaco Castiglione l'assessore alla polizia municipale Viaggio Stallone pertanto invitano la cittadinanza a rispettare tale segnaletica al fine di consentire ai mezzi di espletare in maniera idonea e completa il servizio Oltre ai servizi di pulizia dell'arenile e delle strade avviate negli scorsi giorni da parte dell'amministrazione comunale di Campobello guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione al fine di consentire la piena friabilità della frazione per l'intera durata della stagione estiva a partire da ieri sono in corso anche i lavori socialmente utili per la pulizia del territorio e la cura del verde pubblico eseguiti dai minori stranieri non accompagnati del consorzio ERA che è in convenzione con il comune di Campobello per l'intera durata della stagione estiva 30 ragazzi di età compresa tra i 16 e i 18 anni provenienti da Pakistan Bangladesh Nigeria Gambia Egitto Burkina Faso saranno infatti impegnati nelle frazioni balneari in diverse attività di pulizia del territorio e cura del verde pubblico l'iniziativa è stata avviata dalla giunta comunale con l'obiettivo di favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri non accompagnati attraverso l'impegno e il lavoro in favore della collettività nel territorio ospitante mediante un protocollo d'intesa stipulato con il consorzio ERA che gestisce il progetto SAI finanziato dal Ministero dell'Interno le attività saranno coordinate da parte dell'assessore comunale all'ambiente Giovanni Palermo il COCRIAM con il mese di luglio inaugura la stagione dell'informazione serrata sulle due proposte di legge della campagna nazionale riprendiamoci il comune sulla richiesta di un dissalatore rivolto al sindaco intensifica la raccolta di firme a cominciare da sabato giorno 1 le stendono spazio attivo alla posta centrale di via Monsignor Audino a Mazzara esattamente al numero civico 9 dove si potrà firmare dalle ore 10 e 30 alle ore 12 e 30 e dalle ore 16 e 30 alle ore 18 e 30 ma cambiamo argomento IT Alert e questo è il nome dell'operazione che avrà il via in Sicilia la fase sperimentale del nuovo sistema di allarme pubblico alle 12 del 5 luglio arriverà un messaggio su tutti i cellulari della popolazione siciliana ascoltiamo i particolari la protezione civile della regione siciliana rende noto che il prossimo 5 luglio si testa il nuovo sistema di allarme alle ore 12 telefoni cellulari in Sicilia saranno raggiunti da un messaggio IT Alert il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale suoneranno contemporaneamente mettendo un segnale distintivo diverso da quello delle usuali notifiche una prova sperimentale che in questa occasione è un invito a verificare il corretto ricevimento del messaggio leggerlo e accedere al sito www.italert.it per rispondere a un questionario le risposte degli utenti infatti consentiranno di migliorare lo strumento in particolare l'allarme scatterà in caso di maremoto collasso di una grande diga attività vulcanica incidenti nucleari o emergenze radiologiche incidenti rilevanti in stabilimenti industriali o precipitazioni intense si evidenzia che non è necessaria alcuna iscrizione né scaricare applicazioni ogni dispositivo mobile connesso alle reti degli operatori di telefonia può ricevere il messaggio IT Alert al solito chiudiamo con la nostra pagina di sport la FC Trapani tramite una nota ufficiale ha comunicato che in data 29 giugno 2023 alla luce di quanto emerso nell'arco delle ultime ore in riferimento ad alcune dichiarazioni attribuite al direttore generale Claudio Anellucci la società ha sollevato lo stesso dall'incarico con effetto immediato il Trapani ed in particolare il presidente Valerio Antonini si dissociano in maniera netta ed assoluta dalle dichiarazioni rilasciate dall'ex direttore generale rivalendosi di tutelare la propria immagine e quella della società in tutte le sedi competenti e questo quanto si legge nel comunicato stampa e come preavvisato era questa la nostra ultima notizia odierna vi diamo appuntamento all'edizione della prossima settimana del TG8 informazione e sul sito Tele8TV potete restare in aggiornamento dalle notizie del territorio